Purtroppo non posso nascondere un po' di delusione perché avevo tutto il potenziale per fare la pole position, la macchina era a posto, però sono andato un pochino in confusione nella qualifica 2 perché mi sono stati tolti due giri per taglio di chicane, però è impossibile segnalare dove avviene il taglio di chicane, quindi nel mio giro buono ho cercato di non tagliare da nessuna parte e proprio per questo ho accusato questo ritardo. Però comunque partiamo dalla prima fila, speriamo di fare una bella gara, cercherò di attaccare per vincere.